Aspettavi questi metodi di lavoro così intensi, così duri da parte di Zemma sotto il profilo atletico? Anche come stiamo vedendo, qualche giocatore ha riuscito benissimo, ad esempio stiamo verificando i tempi di la dilla e sui mille metri, a quei tempi quasi da dei sottotitoli isola, giusto è un pochino di difficoltà. E' un po' un po' pesante per il momento, per te questa metodologia di Zemma? Io non l'ho fatto mai questo, è la prima volta che faccio questo lavoro, però non è che a me mi costa più di altri, sino che la mia qualità fisica è diversa, è per fare in un spazio più piccolo, è giusto che a una distanza lunga mi costa un po'. Però per questo ce l'ha gestata, per lavorare, per arrivare a punto. Ecco qui, volevo chiederti, se reputi Zemma per quello che ti hanno raccontato, per come stai vivendo in questi giorni, il tecnico ideale per farti arrivare al top, per farti diventare in Poglia che tutti si aspettano, e se questa, quella che sta iniziando, può essere la stagione in cui Poglia ci darà il top del suo repertorio, quello che si è visto un po' troppo anche nel terreno. Io non ho lavorato mai con me, per questo, stiamo lavorando di manfittico, e dopo vediamo, per questo, mi vuole dire di manfittico. Io aspetto per farlo bene, ho bisogno a domini di questa continuità che l'anno scorso lo ha avuto, Io sono il primo che sono convinto di che lavoro bene, che sia questa continuità, posso farlo, per favore.